Alla fine l'evento ha diradato le nubi, le tossine, le polemiche, che va alla fine andato davvero tutto bene. Noi siamo stati molto soddisfatti di aver voluto che in questa giornata dedicata a Maradona ci fosse il momento istituzionale del conferimento della cittadinanza a Palazzo San Giacomo. Tra l'altro una cerimonia molto sobria, molto intensa, molto bella e commovente. Poi la festa in piazza che era tutta per Diego, bastava vedere le persone presenti, volevano sentire, ascoltare, guardare, osservare il Pipe d'Oro. Diego Armando Maradona, come è giusto che sia. Sì, sono state pure secondo me un po' di polemiche di troppo e poi quando sembrava che se ne erano attraversate tutte di polemiche ce ne sono state create anche storie che non esistevano. Infatti Maradona è arrivato, pure io ho assistito a un dibattito fino all'ultimo minuto, ma va bene così, nel senso che quando si parla di Maradona tutti si sentono nel diritto di dire la propria, c'è un protagonismo, quindi l'importante è che alla fine andava tutto bene, sia l'evento, sotto il profilo della sicurezza, dell'organizzazione, insomma siamo molto soddisfatti.